Chissà chi era. Ma? Chissà se aveva famiglia. E se l'aveva. Guardiamo un po' cosa aveva con sé. Qualche centinaia di pezzi. Si chiama Jim Cody. Dallas, Texas. Una lettera da Dallas. Deve essere casa sua. Scommetto che è la sua ragazza. Non c'è male. Caro Jim, la tua lettera è appena arrivata. È stato un gran conforto avere tue notizie dopo tanti mesi di... Silenzio. Silenzio. Io capisco certo che non ci sono cassette totali in cui invucare una lettera in certi luoghi e sulle montagne. Leggi tu, tieni. Ma questo non mi impedisce di stare in pensiero per te. Il piccolo Jimmy è un amore, ma desidera tanto il suo papà quasi quanto me. Segui a chiedere, quando torna a casa papà? Mi dici che se questa volta farai un buon bottino non partirai più. Io non so nemmeno dirti quanto mi rallegri nel cuore queste parole. Spero sia vero. E adesso mi sento libera di dirti che non ho mai creduto che i tesori materiali, per quanto grandi fossero, potessero ripagarci di queste lunghe separazioni. Quest'anno la campagna è più bella che mai. La primavera è stupenda. Non c'è stato gelo e ha piovuto poco. Tutti gli alberi da frutto sono fioribili. Il fruttetto di sopra sembra in fiamme. Su quello di sotto sembra sia nevicato. Tutti prevedono un grande raccolto. Spero tu sia a casa per l'amiettitudine. Spero che finalmente tu possa riuscire in quello che desideri. È proprio ora che la fortuna comincia a sorriderti. Ma in caso contrario, ricordati che il vero tesoro della vita l'abbiamo trovato. Per sempre tu. Elio. Beh, sarà meglio scavarle una fossa.